Siamo in streaming della partita, abbiamo cambiato modalità, vediamo che succede, c'è l'attacco con un colpo di tacco di Arcamone, rivio di Zienbaschi, il pallone sul Fumarola, Cammarota, Orlando, cerca lo scambio, c'è l'intervento con Ferrara, Orlando, Francavilla in zona d'attacco con Pisani, l'appoggio a Seccum, Zaminga, Lungolini ha intervento deciso su Orlando, il pallone fallaterale da parte di Nicolau, e il pallone fallita da parte di Nicolau,